In questo momento abbiamo la ZES Campana che è bloccata, come sapete. Abbiamo la ZES fra le otto che funzionava meglio in Italia. Hanno istituito la zona speciale unica nazionale, ma è tutto bloccato. Non si muove una foglia. C'è una notizia più grave che vi devo dare. La zona unica speciale per il Sud doveva servire a dare incentivi a chi viene ad investire nel Sud. Avantieri è stato pubblicato un decreto della Presidenza del Consiglio che riguardava il regolamento di funzionalità delle zone logistiche speciali nel centro-nord. Avete capito che cosa hanno fatto? Cioè, oltre la ZES unica meridionale, questa però è andata avanti nel centro-nord, hanno pubblicato il regolamento di attuazione delle zone logistiche speciali. Cioè, sono l'equivalente delle ZES del mezzogiorno che si fanno nelle regioni dove ci sono i porti, ma anche nelle regioni dove hanno aree logistiche collegate con i porti, cioè anche in Lombardia per intenderci. Cioè, chi va a fare investimenti nelle zone logistiche semplificate del centro-nord riceve gli stessi incentivi fiscali che riceve un imprenditore che investe nel Sud. E abbiamo completato il ciclo di, come dire, calpestamento e tradimento del Sud. È chiaro? Questa è la situazione attuale. Se aggiungiamo a questo quello che succede con l'autonomia differenziata, il Sud lo possiamo chiudere. Lo possiamo chiudere. Grazie.